Sono Francesco Ceraulo di Tickers e oggi siamo qui per portare in anteprima il nostro progetto Faro Suite. È un ecosistema di strumenti innovativi che permette a chiunque senza capacità specifiche tecniche di costruire in completa autonomia e a tempi e costi ridotti la propria applicazione per la propria struttura. In questo momento tramite una sua declinazione Faro Art stiamo pensando al mondo dell'arte e i prodotti che vengono realizzati sono audioguide evolute e accessibili, quindi utilizzabili allo stesso modo anche da pubblici non vedenti, povedenti, con disabilità. Quindi il nostro mercato di riferimento è tutti. Il digitale è una grande opportunità che noi abbiamo come sviluppatori, come tecnici e dovrebbe essere qualcosa al servizio di tutti, soprattutto che abbia un impatto sociale. Per noi di Tickers pensiamo a un modello di business dove non solo si crei ricchezza a livello imprenditoriale ma soprattutto si creino dei prodotti utili socialmente, quindi a migliorare non solo la nostra vita ma anche a quella degli altri. Penso che in tal senso avere come target di riferimento tutti sia la cosa migliore anche per il digitale. Grazie. Grazie.